E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Davide Romagnoli e benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Sampdoria. Turno numero 34, 5 gare alla fine, il sogno Europa da cullare per entrambe le squadre. Bianco Celesti chiamati a rispondere ai cugini giallorossi per tornare al terzo posto. Lucerchiati invece con la chance di riagganciare il Milan dopo il tonfo dei rossoneri. Orsato col fischietto in bocca fa partire in questo momento Lazio-Sampdoria. Il cross in mezzo, Lucas Leiva! Intuffo non trova la porta su questa soluzione di Stefan De Vrij. E' arrivato il brasiliano a colpire di testa. Va il cross dentro di Torreira, pallone messo fuori, Barreto! Stracoscia, poi Torreira, pallone dentro, deviazione libera! Senat Lulic, ma che brivido! Cross di prima, dentro, colpa di testa! E c'è il gol del vantaggio di Milinkovic-Savic! Al trentaduesimo torna a segnare il numero 21 della Lazio. E la squadra di Inzaghi passa in vantaggio in un momento complicato di questa gara. Lulic servito, lato corto, il cross immobile, anticipato da Viviano! Arriva ancora Milinkovic! E non riesce a calciare verso la porta. pallone in area per Felipe Anderson, che calcia! Con i pugni Viviano, non è finita, immobile, cerca lo spazio immobile! Ancora Viviano! E poi Felipe Anderson non può raggiungere questa palla perché è in posizione di offside. Anderson cross sul secondo palo, colpa di testa! E arriva il gol del 2-0 di Stefan De Frey, che regala il raddoppio alla Lazio al minuto 42. Fischia-Orsato e riparte Lazio-Sampdoria. Barreto in avanti, il movimento di Zapata, posizione regolare in area Zapata! Pallone a lato di un soffio. Fischia-Orsato. Va Felipe Anderson, sopra la barriera, pallone che non scende a sufficienza. Si spegne sul fondo, nulla di fatto. Arriva il cross di Lucas Leiva, in area Caceres! In anticipo, sulla difesa della Samp, manda a lato di poco. Buona l'imbucata per Milinkovic. In area si avvicina Immobile, Milinkovic lato corto, Immobile! Questa volta non sbaglia! Assist di Milinkovic! Il gol numero 28 in campionato di Ciro Immobile! Nani in avanti per Immobile, in area Immobile! Col piattone, la doppietta di Ciro Immobile che fa esplodere la curva a nord. Poker della Lazio! C'è il fischio di Orsato, senza recupero! La Lazio batte la Sampdoria, 4 a 0!